I sottoscritti cittadini, abitanti e frequentatori del centro storico sottopongono all'attenzione del sindaco di Potenza la necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione delle basole dell'antica pavimentazione del largo di San Michele. Attualmente la pavimentazione è in uno stato di grave dissesto con le basole che sono completamente sconnesse e rialzate. Tale situazione, oltre ad essere motivo di degrado, crea grave pericolo per la pubblica incolumità. Questo quanto è evidenziato nel testo della petizione popolare promossa da alcuni cittadini del centro storico di Potenza per chiedere all'amministrazione comunale di tutelare uno dei luoghi più importanti del capoluogo di regione. Per sottoscrivere la petizione è possibile recarsi presso la copy step in via del popolo. Vogliamo le basole che sono sconnesse, non riquodificazione, vogliamo che vengano aggiustate, in poche parole, levate e rimesse. Le antiche basole che sono vicino al largo San Michele.